È un risultato che amareggia molto, forse però la prestazione meritava qualcosa in più. Magari sì, per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Abbiamo stato molto vicino al gol, mi sembra che se pareggiavamo la partita poteva essere per noi. Una partita molto intensa, di alto livello, tra due capolista in effetti. Sì, sì. Prima della partita si sapeva che era una partita difficile, per tanti loro come noi potevamo vincere. Siamo un po' arrabbiati perché volevamo un po' di più, anche abbiamo cercato di fare il gol. Mi sembra che se facciavamo il gol nei primi 20 minuti del secondo tempo potevamo vincere. Cosa è mancato? Cosa è mancato? Quello, che una di quelle palla finisce in gol. Per dopo, con tutti i tifosi, con tutti, sicuramente la partita giocavamo sotto la porta di loro. Questa è una sconfitta che un po' ridimensiona le ambizioni della Lazio. Si era parlato proprio di primissimi posti. Sì, adesso la Juve va un po' avanti. Usce un po' di quei punti che avevamo noi. Però adesso a pensare alla UEFA. Cosa avevamo una partita difficile, io vedì, dopo vediamo per tornare alla Serie A.